È fondamentale continuare a tenere comportamenti corretti, uso della mascherina, distanziamento di almeno un metro e lavaggio frequente delle mani. Lo ha scritto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sul suo profilo Twitter, commentando la situazione epidemiologica mondiale. Ascoltiamo la pagina dedicata agli aggiornamenti sul coronavirus in Italia e in Puglia. 250.000 casi Covid in 24 ore e il record mondiale di contagi in un solo giorno. Questo ci dice che siamo nel pieno della battaglia, è fondamentale continuare a tenere comportamenti corretti. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che insiste sull'uso della mascherina, sul distanziamento di almeno un metro e sul lavaggio frequente delle mani. Per Walter Ricciardi, consulente dello stesso Speranza, servono più controlli, ma soprattutto applicare sul serio le sanzioni. Intervistato dalla stampa, riflette su quanto è stato fatto dall'Italia per garantire la sicurezza. Potremmo fare di meglio, senza abbassare la guardia, come purtroppo fanno un po' troppo in giro. Siamo stati tra i pochi paesi ad aver reagito bene e tempestivamente alla pandemia, ma ora dobbiamo fare di tutto per non arrivare impreparati alla battaglia di ottobre, quando il virus potrebbe rialzare la testa. Diciamo, ricorda Ricciardi, che sarebbe stato meglio trovarci oggi vicino a zero contagi, che non dover affrontare la possibile seconda ondata con i circa 200 casi che registriamo quotidianamente. Rischiamo di fare la fine della Catalogna o di Israele. Se i focolai crescono di numero e volume c'è il rischio di non riuscire più a tenerli sotto controllo, ma non saremo al sicuro fino a che non ne usciranno anche gli altri paesi, dove per errori clamorosi come quelli che sono stati commessi in USA e Brasile assistiamo a una tragedia assoluta. Intanto Pierluigi Lopalco, coordinatore delle emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, ha comunicato che non ci sono nuovi casi positivi al coronavirus né decessi. I casi registrati ieri invece riguardano cittadini stranieri in arrivo in Puglia, sottoposti a screening sia per la provenienza che per i contatti stretti, con altri casi. Ancora una volta va rivolto un appello a tutti i cittadini perché prendano le precauzioni come l'uso delle mascherine, il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale perché il virus, seppur in maniera minore, continua a circolare. conclude Lopalco.